Adesso apriamo questo momento di dibattito che dà titolo anche a questa serata con tre personaggi, con tre persone che hanno insomma molto da dire. Una la conoscete benissimo, è un signore il cui nome senza dubbio fra qualche secolo sarà ancora lì nei libri di storia, su questo direi che non c'è dubbio, ma non lo dico per piageria, credo che sono un dato di fatto incontestabile, ed è Federico Faggin che invito qui a raggiungermi, fisico di formazione, imprenditore di origine italiana, attualmente però naturalizzato, ormai da un po' di tempo in realtà statunitense, ha inventato niente meno che il microprocessore, prima ancora, però penso i MOSFET venivano prima, nel microprocessore, io li ho studiati sui libri di testo, le invenzioni all'università, le invenzioni di questo signore, come appunto i MOSFET, il primo microprocessore, lo Z80 che è ancora oggi, dopo non so quanti anni in produzione, si usa per i PLC, giusto? È un altro piccolo microprocessore, anche questo, che si usa. Ecco, insomma, stiamo parlando di un signore che ha fatto veramente la storia della tecnologia ed è anche un imprenditore, cofondatore, tra l'altro, di Synaptics. Poi abbiamo David Orban, eccolo là. Adesso recuperiamo i microfoni, benvenuto. Allora, allora, ecco, benissimo, adesso, banca il microfono lì. Allora, cominciamo a metterlo qua e adesso recuperiamo l'altro. Bene, David Orban è un esperto, è quello che adesso, di recente, li chiamano evangelisti, insomma, questi signori che vanno in giro a spiegare che diavolo, dal loro punto di vista, naturalmente, ma che diavolo sta succedendo nel mondo rispetto a queste, come dire, ondate di innovazioni tecnologiche che stanno cambiando sotto i nostri occhi anche il modo di lavorare. E poi abbiamo Michele Crudele, eccolo qua che arriva, fisico cibernetico, di formazione, ma direi tendente più alla professione del filosofo, ultimamente, pontificio Università della Santa Croce, ha molti, diciamo, diversi, diversi incarichi e ci porta a un punto di vista su queste vicende, evidentemente, appunto, peculiari, in qualche modo. Allora, rispetto a questo, allora, dobbiamo, proviamo intanto a... E lì, l'altro microfono mancante. Vabbè, quello è solo un tappo. Allora, abbiamo un compito difficile, perché questa tematica che potremmo richiudere sotto questo cappello, l'uomo e la macchina, in realtà è una tematica che poi si scompone in tanti problemi molto diversi. Qualche parola d'ordine l'ho citata prima, l'intelligenza artificiale, una parola che ho dimenticato, c'è un'innovazione epocale, rispetto a tutte queste parole d'ordine, quali sono, secondo lei, come dire, le innovazioni che anche in una logica imprenditoriale sono di maggiore impatto in questo momento? Quali sono, cos'è che cambia di fondo? Queste innovazioni, quali sono e che cosa cambiano di sostanziale? Chiaramente la digitalizzazione dell'informazione è il movimento fondamentale che è partito con l'invenzione del computer nella fine della guerra e con l'invenzione del microprocessore ha portato ad un'accelerazione fantastica della velocità con cui ha la tecnologia ha penetrato essenzialmente tutte le fasi della nostra vita oggi è arrivata l'intelligenza artificiale che naturalmente sarà la base della robotica più avanzata e l'intelligenza artificiale oggi è proposta come una vera rivoluzione però io devo dire che non ho la stessa come dire esuberanza nel fare queste previsioni che molti fanno secondo me l'intelligenza artificiale ha certamente superato le difficoltà che esistevano da praticamente sempre nel risolvere problemi complessi il riconoscimento di patterns molto complessi come non so la traduzione simultanea delle lingue oppure la scrittura a mano e così via queste cose che sono state risolte il riconoscimento di oggetti in un'immagine è impossibile fino a pochi anni fa erano molto limitate con le tecniche precedenti con le reti neurali che peraltro io studiavo già 30 anni fa con la Synaptics e volevo fare emulazione di reti neurali e sono riuscito a farla ma non sono mai riuscito a trovare un'architettura generale che permettesse con pochi elementi dello stato solido creare un computer cognitivo e oggi ancora non esiste questa architettura sono veramente la soluzione la soluzione a questo problema diciamo fondamentale e quindi c'è tutta una una serie di possibilità nuove che sono rese possibili con l'intelligenza artificiale che certamente accelereranno ancora il progresso però la tecnologia di base che è la tecnologia del silicio sta arrivando verso la fine della corsa perché ormai usiamo da 5 a 7 nanometri 7 nanometri in produzione 5 nanometri per chi 5 nanometri sono 5 miliardesimi di metro sono le dimensioni minime di questi oggetti che sono gli elementi fondamentali di tutta la microelettronica che è la tecnologia della digitalizzazione di oggi praticamente 3 nanometri si pensa che si possa fare anche se nessuno ha ancora trovato il metodo per farlo un nanometro casca l'asino non è possibile non si riesce più ad andare perché a quel punto siamo a livello di 10 atomi come lunghezza e i conti non tornano più quindi questa idea che questa accelerazione diciamo della tecnologia continua all'infinito è un'idea che invece comincia proprio a top comincia a diventare ad essere limitata e soltanto alcune soluzioni saranno possibili nel futuro dove usando molti livelli di integrazione sarà possibile continuare il processo di aumento di transistori e aumento di capacità di processing di elaborazione il problema è che non sarà possibile non c'è nessun modo che sappiamo conosciamo oggi per ridurre la potenza dissipata e oggi i calcolatori usano un mare di potenza e per esempio i grandi i grandi sistemi diciamo del cloud computing arrivano a 25 50 megawatt di potenza quelli che sono in progetto oggi e sono potenze dissipate pazzesche e la velocità siamo arrivati a 5 giga 5 giga nei microprocessori 15 anni fa 20 anni fa quindi questa idea di elaborazione continua a aumentare all'infinito e quindi questo è una cosa molto importante da tenere in considerazione allo stesso tempo le applicazioni della tecnologia che abbiamo oggi continueranno ad aumentare quindi l'impatto di questa tecnologia è certamente enorme quindi bisogna saperla gestire ma non è che continuerà a crescere in maniera esponenziale come si assume questa non è certamente nelle carte arriva poi la tecnologia nuova che è le biotecnologie con l'invenzione di CRISPR la scoperta di CRISPR che è un editore del DNA che può far cambiare il DNA di cellule eucariotiche cosa che non era possibile fare prima si può decidere base per varie scrivere prima non si riusciva senza causare effetti collaterali in altri punti del DNA invece oggi si riescono a modificare le singole basi esattamente come si vuole esatto e questo può può creare grandi grandi come dire grandi opportunità ma anche grandi pericoli perché la manipolazione genetica secondo me è molto più pericolosa che non il pericolo che vediamo che vedo nell'intelligenza che lei vede dell'intelligenza perché la vita è qualcosa di molto più ricco e molto più importante dal punto di vista della capacità di adattarsi e creare strutture autonome oggi non riusciamo a fare robot autonomi ma la vita è autonoma per definizione e una volta che la vita quindi non è controllabile se scappa di mano abbiamo dei problemi enormi davanti quindi questo è un pericolo che non se ne parla molto ma è molto per quello che capisco io è molto più grave del pericolo dell'intelligenza artificiale l'abuso dell'abuso ma se questo in una battuta a pochi secondi le chiedo se è possibile naturalmente ma qual è questo l'elemento più oggi si usa la parola disruptive che introduce l'intelligenza artificiale cos'è che cos'è che cambia di fondo c'è qualcosa di fondamentale che cambia nel modo in cui si può organizzare anche la società umana il lavoro grazie all'intelligenza artificiale non vedo niente di così disruptive come ci viene presentato grazie grazie ho il sospetto che Davide Ormana penserà in modo leggermente diverso su alcuni di questi temi allora intanto Fagginci ci dice attenzione che appunto questa crescita la legge di Mura è quella che la crescita e la competenza di Cacoro raddoppia ogni due anni una cosa di questo genere più o meno dice attenzione che non è detto che le cose vadano così perché le tecnologie attuali sono arrivate un po' a fine corsa cioè se facciamo più piccoli di così quei transistor cominciano degli effetti quantistici diciamo che non riusciamo più a governare per cui quel transistor si comincia a comportare in modo praticamente casuale rispetto ai nostri obiettivi non siamo più in grado di usarlo faccio un po' anche a te Davide la stessa domani intanto naturalmente di rispondere su questo tema a faggini ma ti chiedo tu invece cosa vedi come cambio fondamentale nel modo di lavorare di organizzare la società con l'introduzione di queste nuove tecnologie tra cui l'intelligenza artificiale sono stato contentissimo quando è stato citato da uno dei relatori precedenti l'etimologia della parola testimone come martire che non conoscevo ma non fidandomi sono andato subito a vedere su google se era vero quanti di voi l'hanno fatto e il riflesso pavloviano di approfittare della nostra abilità di andare a fondo delle informazioni che riceviamo per verificarle è una condizione necessaria nel mondo di oggi dove la realtà stessa e la nostra percezione della realtà è trasformata dall'intelligenza artificiale che oggi è in grado di fregarci simulando immagini testi video audio qualunque cosa e se voi oggi non vi attrezzate per per essere scettici critici in un grado senza precedenti rispetto a quello che vi circonda sarete fregati sarete spazzati via oppure peggio ancora diventerete gli strumenti di demagoghi populisti che approfittano della vostra ignoranza e della vostra manipolabilità questo io lo ritengo abbastanza dirompente fare altrettanto e di cercare su google nel momento probabilmente si sbaglia e con profonda mancanza di rispetto ma nello spirito di un dibattito sano sul palco andrò a contraddire con forza Federico perché noi non usiamo i computer a tubi catodici perché hanno raggiunto la loro massima capacità di venire incontro alle nostre esigenze e certamente non useremo il silicio o i microprocessori progettati e costruiti attraverso le tecnologie di oggi perché avranno esaurito la loro traiettoria ma spero che nessuno lo prenda sul serio quando dice implicitamente che sarebbe meglio che quelli che si iscrivono ai corsi di laurea di ingegneria elettronica andrebbero meglio a fare i camionisti perché tanto la corsa è finita la corsa non è finita è ancora una strapolazione diciamo no 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 io sto provocando naturalmente sto facendo delle provocazioni ma l'esponenziale l'esponenziale di cui parliamo perché alla Singularity University noi mangiamo esponenziali a colazione e la curva ad esse giustamente la curva logistica di una particolare tecnologia che parte e la conosciamo ancora poco poi imbrocca un'accelerazione iniziale perché cominciamo a capirlo bene e poi comincia a non riuscire a ritornare quanto ci aspettiamo comincia a rallentare e poi asintoticamente avvicina un punto oltre cui non può andare non è quel gomito iniziale di cui parliamo quando parliamo di curve esponenziali quello di cui parliamo è l'inviluppo di una serie di queste tecnologie che uno dopo l'altro in modo impercettibile si susseguono perché in un mondo aperto di competizione decine o centinaia di diversi gruppi cercano di risolvere i problemi che portano all'innovazione che attraverso poi le licenze di brevetti e di metodi di produzione si diffondono dappertutto per superare problemi che precedentemente sembravano insuperabili ed è per quello che giustamente per esempio abbiamo le notizie sui computer quantistici perché quei fenomeni che 40 anni fa si potevano ignorare nella costruzione dei microprocessori oggi non solo non si possono più ignorare ma se si vuole andare avanti bisogna abbracciare per produrre quella capacità di calcolo di cui abbiamo bisogno adesso farei replicare Faggin per puntualizzare visto che ci siamo ricordiamo che computer quantistici per capirsi che sono un'architettura completamente diversa per fare calcoli non è che sono superiori ai calcoli tradizionali in tutti i settori sono in alcuni ambiti dove riescono a mettere a frutto i propri vantaggi se facciamo in tante applicazioni in informatica quantistica non avrà nulla di più di quella tradizionale però Faggin lei cosa risponde poi vorrei passare la parola crudele naturalmente rapidamente corretto non voglio che diventi una botta risposta che sarebbe non sarebbe produttiva credo di intendermi abbastanza di tecnologia da poter dire che il computer quantistico programmabile quindi che potrà sostituire il computer di oggi a vista degli esperti intanto quando parlavo di che la tecnologia non sta crescendo in questa grande velocità che da reti neurali non hanno portato una differenza fondamentale intendevo a livello della tecnologia non a livello delle applicazioni perché se guardiamo a livello delle applicazioni invece la possibilità di manipolare la gente attraverso l'intelligenza artificiale è enorme ed è stata applicata già l'abbiamo anche vista con le elezioni del presidente Trump va bene e questo è una cosa di manipolare le persone anche di gestire il traffico ci sono aspetti positivi e poi ci sono cose bellissime che si possono fare con l'intelligenza artificiale quindi da questo punto di vista diciamo l'impiego dell'intelligenza artificiale certamente accelererà tutti i campi però la tecnologia che deve continuare a come dire alimentare queste possibilità questo incremento di possibilità non vedo in questo momento una tecnologia che possa tenere il passo della legge di Moore Michele Crudele allora anche anche a te ci possiamo dare il tu rivolgo un po' la stessa domanda naturalmente completando quanto è stato detto ti chiedo quali sono dal tuo punto di vista gli impatti più significativi di questa ondata di nuove tecnologie di cui appunto l'intelligenza artificiale forse l'onda più recente ma dove vedi gli aspetti qualificati cosa cambia sotto sotto anche nel bene e nel male cambia che non riusciamo a renderci conto esattamente di quello che sta succedendo però il rischio è di essere pessimisti allora permettetemi di leggere una frase brevissima di una persona che in un posto qua vicino all'isola vicentina ha sviluppato una buona parte del suo pensiero lui dice non abbiamo bisogno di ridurre la tecnica ma al contrario di accrescerla non dobbiamo irrigidirci contro il nuovo tentando di conservare un bel mondo condannato a sparire chi è questo? è Romano Guardini 1925 incredibile no? un teologo tra l'altro alla base pieno futurismo pieno futurismo cioè quando si ricominciava a ragionare su questi aspetti anche con te poco piacevoli pensando che la sua teologia è alla base sia di Arsinghetti e di Bergoglio ci fa pensare che in questo questi uomini di chiesa sono stati dei precursori e hanno pensato al futuro allora non abbiamo la palla di cristallo nessuno 30 anni fa prevedeva quello che sta succedendo adesso Google non l'aveva previsto nessuno Facebook non l'aveva previsto nessuno quindi io penso che non siamo in grado di prevedere quello che succederà con lo sviluppo dell'intelligenza artificiale con lo sviluppo dei computer quantistici e mi sembra però più importante che riusciamo a renderci conto di quello che possiamo controllare e di come possiamo controllarlo vorrei fare una domanda a tutti quanti voi ci credete che 2 più 2 fa 4? davanti alzate la mano ci credete che 2 più 2 fa 4? ecco non è vero perché lo sapete non ci credete non avete bisogno di fidarvi di me perché vi dico che 2 più 2 fa 4 e questo se invece vi dico che un numero di 10 cifre è un numero primo ci credete ecco avete bisogno di fidarvi ma potete controllare mentre altre cose anche se è complicato si può ancora si può ci vuole un po' di tempo ma si può fare è alla portata di tutti mentre se vi dico che il morbo il morso del mamba nero è velenoso mortale certo sperimentarlo personalmente non potete perché sennò poi non potete dirlo e quindi su quello dovete fidarvi cosa succede con le nuove tecnologie con l'intelligenza artificiale ma anche con internet anche con google noi ci fidiamo di che cosa facciamo la valutazione di credibilità del contenuto e affidabilità del testimone che è quello che dovremmo fare sempre perché queste sono le basi questo dovremmo insegnare ai nostri bambini sapersi fidare avendo però questa valutazione qui quando non conosci come è fatto quell'oggetto cioè come viene sviluppato perché dà quei risultati ma perché è oggi che non lo conosciamo e prima lo conoscevamo non è che tutto quella non è che tutta la tecnologia certamente è più facile e ci su sistemi che danno dei risultati senza che noi capiamo qual è la causa effetto magari c'è dentro magari c'è però non abbiamo la possibilità di ricostruire la catena a quel punto il risultato possiamo fidarci o non dobbiamo fidarci questa è una domanda che uno si deve porre e non deve fermarsi ribadisco quello che diceva Guardini e non è che ci dobbiamo fermare di fronte a queste cose però dobbiamo creare una formazione superiore mi permetta se provo a stringere quindi dice lei un punto fondamentale è che è diventato molto più difficile distinguere non so se il vero dal falso ma quantomeno capire come dire che tipo di elaborazioni sono state fatte come sono state trattate come dire io arrivo ad una ad una conclusione c'è da dire che questo vale anche per il cervello umano cioè noi non sappiamo in che modo eppure ci fidiamo lo stesso di quello che riconosciamo nell'ambiente però un problema fondamentale è questo sono delle scatole chiuse per esempio alcune di queste intelligenze artificiali non sappiamo come arrivano alla conclusione e poi c'è questo tema che è stato anche richiamato da Orban del rischio di manipolazione questi sono due elementi sembra che debba citare Arthur Clarke anche per questo perché nel frattempo ho verificato quel aforisma era di Arthur Clarke e forse la sua ha formulato tre leggi vengono chiamate le leggi di Clarke la prima che è quello che ho citato prima la terza è che ogni tecnologia sufficientemente avanzata è indistinguibile dalla magia ma questo non significa che è magia semplicemente dobbiamo andare avanti a prepararci a saperla gestire al meglio in effetti l'Unione Europea ha stanziato un miliardino di euro per programmi di ricerca in una direzione cosiddetta di explainable artificial intelligence cioè di scatole nere che spiegano come sono arrivate ad una certa decisione tu vai in banca chiedi un prestito e oggi è illegale ma avviene universalmente che il direttore della filiale dica mi dispiace il computer ha detto di no perché se alla fine vai a chiedergli come e perché anche il direttore della filiale non è in grado di dirlo questo è un problema della complessità dei nostri tempi la complessità è tale per cui reti neurali o non reti neurali il problema è che capire bene cosa ci succede intorno non si riesce però non è un problema insuperabile cioè sta a noi a fare in quel caso un passettino indietro e dire sistemi bellissimi ma non possiamo permetterci di mettere di affidare qualcosa che la società sia in mano di questi sistemi un po' come il lancio dei missili atomici è in mano a persone il lancio di questi sistemi deve essere in mano alle persone così come i missili atomici alcuni ricercatori recentemente hanno proposto dicendo che era meno pericoloso lasciare il bottone rosso in mano delle intelligenze artificiali perché non erano emotive questo dico Orban non so se lei sta citando questo per questa ragione ma per esempio recentemente ha fatto discutere questa ricerca io ho partecipato ad una conferenza organizzata da Elon Musk a Porto Rico a gennaio dove eravamo un centinaio proprio a chiederci come si può progettare sistemi di intelligenza artificiale che una volta lanciati siano comunque compatibili con un futuro comune con l'umanità sul pianeta perché il pericolo è che poi non ne abbiamo il controllo non ne abbiamo più il controllo beh quindi qualche pericolo insomma mi pare che lo veda anche Orban no? so se spero io vedo mi sembra vedo un enorme pericolo di cercare di risolvere problemi che con la convinzione che questi problemi siano risolvibili perché per esempio i sistemi esperti erano i sistemi che richiedevano l'uomo di spiegare come arrivavano a decisione questi sistemi esperti non hanno mai funzionato va bene per la stessa ragione che non è possibile con le reti neurali capire come arrivano a prendere una decisione quindi adesso non voglio non voglio fare un uguale un segno uguale a questo perché le reti neurali è possibile un uomo può osservando come certe decisioni vengono prese può capire tutto volto a spiegare cose non capire queste cose perché non può capire assolutamente non capisce nulla elabora e basta esatto non so se su questo vuole aggiungere qualcosa beh ha citato Arthur Clarke non posso esimermi da citarlo anch'io perché l'ho conosciuto sono stato a casa sua quando vivevo nello Sri Lanka sono invidioso c'ho anche una corrispondenza fitta con lui avuta fino alla sua morte e lui però diceva un'altra cosa importante che è meglio essere ottimisti perché se sei ottimista hai più probabilità di ottenere un risultato perché più gente ti verrà dietro perché andare dietro un pessimista non ci va a nessuno allora no no se non se non io sono però prego allora partiamo da questo ottimisti in chi nell'uomo nell'uomo come uomo cioè nella capacità dell'uomo del suo spirito di fare le cose per il bene e quindi che tutto quello che sta progettando programmando lo fa perché serva a qualcosa lo scienziato cerca la verità e questa verità è una perché altrimenti non la cercherebbe è comune altrimenti se la verità di uno scienziato è quella e la verità dell'altro scienziato è un'altra che cercano a fare una legge universale cioè c'è sempre questo afflato nei confronti della verità che non esauriamo però che riusciamo a raggiungere in tante situazioni quindi in questi campi certo bisogna stare attenti per esempio nell'ambito dei robot io preferirei che i robot non fossero antropomorfi cioè che preferirei sapere che sto parlando con un robot che sto muovendomi con un robot e non che sembra un uomo il deepfake lo vedo come un vero rischio sapete cos'è il deepfake cioè quei video in cui puoi far dire qualsiasi cosa a una persona adesso stanno registrando me che parlo dopo possono prendere il video e alterare il movimento della mia bocca e farmi dire esattamente il contrario ma non solo muovere la bocca la persona a tutte le movenze ci sono dei video per esempio famosi di Obama sono finti perché è stata fornito un discorso è stata addestrata l'intelligenza artificiale a imitare Obama che parlava è stato fornito un discorso ed è impossibile e tra poco sarà impossibile distinguere il vero dal falso io però sono io vi butto lì però un paio di elementi di fondo che secondo me stanno cambiando a questo punto ditemi voi se siete d'accordo allora per esempio la intelligenza artificiale io trovo che la sua qualità più significativa almeno per quel che si può fare oggi non so tra 20 o 30 anni ma è diciamo Cosimo Accoto che un filosofo parla della società oracolare cioè quello che noi riusciremo a fare mentre fino ad oggi per decidere che cosa fare domani studiavamo il passato cercavamo come dire di imparare dal passato e decidevamo che cosa fare domani grazie a questi enormi flussi di dati che arrivano dall'internet of things la capacità di raccogliere di lavorare noi saremo in grado di fare continuamente predizioni cioè grazie a questa massa di dati forse in modo oscuro perché non sappiamo in che modo queste predizioni avvengono ma di fatto siamo in grado di fare predizioni sul traffico sullo stato di salute di una persona sul fatto che un impianto in un'azienda magari quella dei signori qui davanti sta per rompersi e ci sono dei meccanismi per cogliere i segni premonitori di una rottura e intervenire in anticipo cioè questa dimensione per cui noi smettiamo di guardare la cosa è successo nel passato ma studiamo continuamente proiezioni del futuro che ci arrivano da queste masse di dati elaborati non è questa una delle dimensioni forse più importanti di cambiamento perché coinvolge il lavoro delle persone scusate chi gestisce un'officina meccanica se l'auto avverte prima della rottura che sta per rompersi il lavoro di quelle persone è un po' diverso un conto è aspettare l'auto che arriva rotta e un conto è aspettare l'auto che arriva ancora integra avendo già il pezzo di ricambio in magazzino ecco allora rispetto a questo tema per esempio voi come la vedete siete d'accordo vi sembra una dimensione perché questo sarebbe interessante per l'intelligenza artificiale è una macchina che impara un programma che impara ma è anche un programma che impara come imparare gli ultimi risultati per esempio applicati ai videogiochi da parte di Google e di OpenAI che ha potuto battere i team migliori di esseri umani in programmi non banali e meccanici come Space Invaders ma programmi che richiedono pensiero strategico e coordinazione molto avanzati come imparare e la loro più importante lezione per analizzare e gestire una società complessa come questa e di inefficiente capacità di comprensione noi abbiamo già un'intelligenza artificiale la chiamiamo democrazia rappresentativa e ne siamo profondamente scontenti quando quando Churchill ha lanciato la sua sfida che noi abbiamo creduto fosse semplicemente una battuta e ci siamo permessi di ignorarlo per 70 anni e diceva guardate che la democrazia è la peggior forma di governo a eccezione di tutte le altre oggi forse cominciamo a intravedere come distinguere tra una lentezza autoimposta che è ponderazione rispetto ad una criminale trascuratezza di modelli che andrebbero assolutamente adottati e che invece lasciamo ancora permeare e dare alla nostra società una 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 parvenza quasi medievale così abbiamo anche dei robot attorno a noi e le chiamiamo fabbriche queste fabbriche erano cieche e sorde perché non avevano sensori ad attuatori e la trasformazione digitale non è solo non usare più i fax e usare l'email la trasformazione digitale è di svegliare queste fabbriche affinché possano cominciare a conversare con noi il problema fondamentale come lo vedo io è di pensare che la macchina può fare meglio di noi cose che non siano meccaniche in altre parole la macchina può fare certamente meglio di noi cose meccaniche ma la macchina non può fare meglio di noi le cose che richiedono buonsenso che richiedono comprensione profonda che richiedono integrazione dei sentimenti integrazione del libero arbitrio e soprattutto fidarsi ciecamente che una macchina possa essere autonoma l'autonomia richiede ben più di vincere un gioco dove le regole sono esplicite il gioco della vita non ha regole esplicite il computer può imparare soltanto se ci sono regole esplicite ma come si fa noi bariamo l'uomo barra l'uomo cambia le carte in tavola l'uomo può attaccare allora come mettiamo come è una macchina come può una macchina se per una macchina per agire in un mondo per agire autonomamente in un mondo di uomini che sono anche aggressivi e barano bisogna dare alla macchina delle capacità di fare cose che non ci dovrebbero mai dare alla macchina come di attaccare in cambio oppure barare anch'essa come facciamo sono il firmatario di una lettera aperta da parte di molte persone che richiama le autorità americane a trattenersi dal finanziare lo sviluppo di armi letali autonome quindi in questo caso in questo senso siamo assolutamente allineati in effetti il problema forse o parte del problema è che la tua definizione iniziale dei tempi che ci circondano di una mera accelerazione non è più sufficiente io definisco il nostro tempo il tempo della scossa in inglese jolting times in matematica il jolt la scossa è la prima derivata dell'accelerazione cioè stiamo circondandoci di tecnologie la cui accelerazione è crescente infatti abbiamo intelligenze artificiali che barano che bleffano bleffano e barano meglio che gli esseri umani e infatti pattono i campioni mondiale di poker infatti abbiamo intelligenze artificiali che imparano senza le regole perché le regole in quei giochi che ho citato prima non gli sono state date sono stati dati degli obiettivi ma le regole le hanno derivate attraverso il gioco chiarezza su che cosa intendiamo con la parola oggi intelligenza artificiale io faccio sempre notare una cosa tutte le intelligenze artificiali sono sei o sette tecnologie diverse perlomeno ci sono i sistemi esperti derivazioni di A simbolica è la tecnologia masochista che nega il proprio obiettivo capiscono la risposta una di queste tecnologie contiene la parola intelligent o qualcosa del genere c'è il deep learning c'è il reinforced learning ci sono come dire c'è il data mining c'è il prediction il predictive come si dice la ricerca di anomalie l'anomaly detection tutte queste tecnologie di intelligenza artificiale una volta applicate non contengono più la parola intelligente perché non sono la stessa cosa che intendiamo noi di fatto poi per intelligenza che non vuol dire che sia l'unica intelligenza che esiste forse noi dovremmo pensare che esistono intelligenze diverse però questo problema c'è chi vuole commentarmi la cosa lui l'ha già fatto mi ha appena detto che sono gli stessi produttori di queste tecnologie che si disinnamorano e dicono no ma questa non la voglio chiamare intelligenza magari perché poi mi criticano formalmente la distinzione è tra intelligenza artificiale ristretta ed intelligenza artificiale generale del primo abbiamo tantissimi esempi del secondo abbiamo un solo esempio e siamo noi ah ok ok infatti infatti quindi il fatto che sia impossibile no va bene non ho detto questo c'è un presupposto che queste intelligenze artificiali le abbiamo fatte noi quindi la nostra intelligenza ha creato questa intelligenza e per cui uno sembra aver paura di cose che abbiamo creato noi stessi mi è capitato tempo fa di andare a parlare alcuni ragazzi in una scuola e prima di me parlava un tizio e c'erano degli alunni dell'istituto alberghiero e diceva ah i vostri nemici principali sono i robot perché vi toglieranno lavoro perché saranno i robot che faranno il lavoro degli albergatori in tutti gli ambiti poi sono andato a parlare io e ho detto i vostri amici principali nel futuro saranno i robot perché sarete voi quelli che li programmerete li costruirete capirete che cosa devono essere in grado di fare allora io vorrei riportare su questa linea qui il discorso cioè l'essere sempre padroni della situazione quindi va benissimo la moratoria anzi l'evitare le armi automatiche va benissimo evitare che prema il pulsante delle guerre nucleari e quindi questa prudenza ci vuole perché non sappiamo ancora esattamente che cosa succede lo stesso con la prudenza che stiamo attuando nelle auto autonome sì è un futuro interessante bellissimo a me piacerà tantissimo avere una macchina che guida da sola però dobbiamo fare i passi senza pensare che sia assolutamente necessario andare alla derivata seconda della se l'ha ordinato di andare con l'elefante si chiama macchina un computer potrà essere cosciente o no questo è il problema vero che non è risolto certamente non l'ho risolto io però ci penso da 30 anni e ho una ipotesi e l'ipotesi è che il computer non potrà mai essere cosciente e questo se fosse vero sarebbe una cosa molto importante perché la distinzione fondamentale tra l'uomo e la macchina è esattamente al livello della coscienza che si porta dietro poi un'enorme quantità di conseguenze e quindi è qui che vorrei convergere un pochino per le ultime mezz'ora che abbiamo perché è un problema fondamentale e so che Orban crede che le macchine potranno essere coscienti e io invece non credo e sarebbe il caso di discutere la cosa la osservazione che noi sviluppiamo perché biologicamente programmati con i neuroni specchio di riconoscerci uni negli altri ci predispone a saltare di là dell'esperienza tangibile impossibile e credere che effettivamente anche le altre persone sono coscienti così come sentiamo noi di di esserlo noi non possiamo fare l'esperimento e quindi con sistemi sempre più permetteranno la crescita ricca di vite future e di società che fioriranno grazie a questi sistemi renderà la domanda ancora interessante per alcuni che continueranno a studiarla da un punto di vista scientifico ed ingegneristico ma la stragrande maggioranza delle persone smetterà di preoccuparsene magari i bambini chiederanno ai loro mentori con cui cresceranno democratizzando quella bellissima istituzione della Grecia antica del tutoraggio che solo principi potevano utilizzare e parte del dialogo sarà ma tu pensi come me e quei mentori artificiali risponderanno come risponderanno io ritengo che saremo circondati da varianti in migliaia o miliardi di diverse coscienze e starà a noi decidere se vogliamo far parte di quel gioco cosmico che loro costruiranno la sfida sarà completamente l'opposta se ho ben capito Orban dice in qualche modo intanto che potremmo trovarci in una situazione in cui il dibattito se è cosciente o non è cosciente è un battito puramente filosofico nel senso che quello che mi trovo davanti è indistinguibile che la imiti molto bene o che sia coscienza vera se ho ben capito prima o poi arriveremo in una situazione in cui cambia non solo è meglio o peggio a seconda perché la nostra limitatezza autoimposta di certe di certe scelte morali sarà banale da risolvere oggi noi per esempio siamo felicissimi carnivori non penso nessuno di voi mangia il cane per esempio ma il maiale è intelligente è uguale non abbiamo remore a mangiare il maiale e questo tipo di contraddizione sarà risolto con facilità in futuro su questo Faggine è crudele io vorrei riportare però a una maggiore concretezza anche attuale il discorso cioè noi siamo in una fase in cui già siamo entrati in una situazione nella quale non dominiamo con sicurezza gli strumenti che abbiamo davanti e facciamo un esempio molto molto banale noi pensiamo di conoscere come funziona Google però non ci siamo mai chiesti perché se io cerco gazzetta con Google al primo posto arriva la gazzetta dello sport e non la gazzetta ufficiale quindi qual è il criterio non è il criterio della risposta giusta a ogni domanda come diceva uno dei fondatori di Google anni fa il nostro obiettivo è questo la risposta giusta a qualsiasi domanda che non esiste ovviamente perché la maggior parte delle cose sono opinabili perché perché confondiamo il concetto di popolarità col concetto di importanza la gazzetta dello sport è certamente più popolare della gazzetta ufficiale ma possiamo farne a meno in Italia mentre della gazzetta ufficiale no altrimenti le leggi non le possiamo neanche promulgare quindi questo perché ve lo sto dicendo perché se non facciamo già adesso un salto qualitativo informazione nostra e delle persone che abbiamo intorno dei docenti nelle scuole che devono insegnare a come funzionano questi meccanismi poi veramente rischiamo che tutta l'evoluzione ci travolga completamente e non sappiamo più che pesce pigliare e non riusciamo a distinguere il bene dal male quindi già adesso dobbiamo metterci a studiare come funzionano queste cose purtroppo siccome i cambiamenti sono stati molto rapidi è mancato un anello cioè l'anello mancante di formazione manca una generazione che ha fatto da mentore per utilizzare il termine già detto nei confronti degli altri che venivano dopo noi ci siamo trovati improvvisamente con i meccanismi che funzionavano così catapultati letteralmente torno al problema perché è un problema che mi sta a cuore il fatto che io non posso dimostrare a un altro che sono cosciente e il fatto che un altro non può dimostrare a me che è cosciente non implica l'assenza di coscienza è un fatto reale che io so dentro di me di essere cosciente io so dentro di me di esistere io so dentro di me che ho sensazioni sentimenti che non sono segnali elettrici e la simulazione della vita non è vita vero proprio invece non è così la vita prima di tutto non è un sistema classico non è un organismo vivente non è una macchina classica non è come un computer ci viene presentato come un computer ma non è un computer il computer può dentro di sé creare una simulazione della vita ma una cellula vivente crea dentro di sé una copia identica di sé hardware e software in realtà non si può neanche dire cos'è hardware e software è una cellula ma crea una cellula uguale e si dividono in due se fosse così se un computer fosse così potremmo eliminare tutte le fabbriche perché basta avere un computer che si riproduce va bene e abbiamo risolto il problema del manufacturing quindi ecco che vediamo subito da questo esempio che la vita non è un computer e noi siamo coscienti perché esistiamo come come organismo fisico quantistico fondamentalmente quantistico di una capacità di elaborazione di informazione che fa impallidire la capacità di elaborazione dell'informazione di tutti i computer che abbiamo altro che altro che singolarità qui parliamo di capacità incredibile va bene al punto che non esiste un computer tutti i computer del mondo non potrebbero simulare una cellula vivente questa è la realtà quindi ci raccontiamo delle storie sulla base di misconceptions di 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 non saper distinguere fondamentalmente tra fiction tra virtuale e reale ed è esattamente quello che sta succedendo con i nostri ragazzi che non sanno più distinguere una fotografia dalle persone reali la concretezza di questa interpretazione chiedo brevemente perché poi vorrei concludere cercando di ragionare termini molto concreti almeno nel finale no 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 prego prego proprio una battuta però se è possibile è che aeroplani ed uccelli volano entrambi e il fatto che tuttora non abbiamo capito alla perfezione come gli uccelli volano non è una dimostrazione che gli aeroplani non possono esistere ma l'uccello è cosciente l'aeroplano non lo è vabbè fermiamoci allora io adesso vorrei ovviamente è un tema molto molto importante molto affascinante però adesso vorrei ricordarvi diciamo appunto siamo davanti a una platea con la quale vorrei provare rispetto alla quale vorrei provare a fare un ragionamento un po' più diciamo terra non terra a terra ma più concreto allora rispetto a prima perché questo tema della coscienza può darsi è senz'altro un tema molto rilevante ma è un problema che in questo momento non si pone al lato pratico siamo no nel senso nel senso che non siamo non c'è niente neanche di lontanamente avvicinabile l'etica l'etica è fondamentalmente è coscienza allora lei ok lei tocca il tema dell'etica allora l'etica è fondamentale ne abbiamo accennato prima ed è sparito in effetti tornerei a quello che abbiamo sentito relativamente alle macchine autonome prima perché applicare lo stesso principio di prudenza che abbiamo applicato alle armi letali autonome o ai missili nucleari alle più letali macchine che abbiamo oggi che uccidono più di un milione di persone all'anno vuol dire fare i danni invece di prevenire i danni oggi noi dobbiamo accelerare al massimo lo sviluppo e la diffusione delle macchine che si guidano da sé perché in Italia 3.000 negli Stati Uniti 30.000 in India 100.000 e passa persone all'anno muoiono di incidenti stradali e quindi è nostro obbligo morale sviluppare allora rispetto a questo tema dell'etica come la mettiamo come lo affrontiamo a questo tema perché effettivamente uno dice metto un'auto a guida autonoma comunque ogni tanto ci sarà un morto però sarà sempre molti meno morti contemporaneamente chi viene finisce sotto l'auto a guida autonoma forse qualcosa da dire ce l'ha io sono estremamente favorevole all'auto autonoma e credo che avverrà avverrà perché non è una vera autonomia quella dell'auto autonoma prima di tutto e perché la ragione per cui l'auto autonoma funzionerà è perché chi causa gli incidenti sono persone ubriache sotto droghe disattenti o distratte o pochi o guidatori che non sanno guidare in quel momento va bene quindi la macchina che non si stanca che non si è morti e 100% per questa direzione ma non un attore medio perché gli incidenti sono causati da pessimi guidatori ecco perché funzionerà ma quando vogliamo mettere una macchina per decidere se buttare giù una bomba o no per fare decisioni etiche fondamentali lì io ho un problema grossissimo e la distinzione tra questi due questi due casi non è fatta quasi mai ecco quindi dal punto di vista proviamo a chiudere se io penso al regolatore abbiamo davanti anche un sottosegretario al ministro dell'interno se pensiamo al regolatore di fronte a questo ondato di tecnologie di ogni tipo perché noi adesso abbiamo parlato per lo più di intelligenza artificiale ma la blockchain si porta dietro una serie di problematiche di opportunità e di rischi anche lì quasi tutte le tecnologie in questione le IoT col fatto che comunque se tutto è come dire se tutto è digitalizzato abbiamo una possibilità di controllo e manipolazione allora il regolatore come si comporta di fronte quale può essere un atteggiamento costruttivo che non vuole fermare tutto ma che non vuole neanche correre troppo velocemente è in una posizione terribile perché noi presumiamo che abbia le risposte che per definizione non può avere perché nessuno ha ancora capito le conseguenze di queste tecnologie men che meno chi non è un esperto come un regolatore non può essere esperto di ognuna e quindi quello che è importante è che per primo noi gli diamo il permesso e la possibilità anzi gli richiediamo di ammettere questa situazione che non venga è punito per il fatto che dica guardate che noi adesso mettiamo giù certe regole ma è garantito che saranno sbagliate saranno meno che ottimali dopodiché quando ci si risiede un anno dopo attorno al tavolo a capire che in effetti non andavano bene non possiamo dare la colpa al regolatore ma dobbiamo assieme a capire che semplicemente abbiamo imparato di più ed aggiornare le regole questa cosa dovremmo averla capito già nelle scuole per esempio dove la situazione tra studenti e studenti è esattamente la stessa e quindi le figure di autorità oggi devono compartecipare all'apprendimento attraverso la sperimentazione che è a disposizione di tutti anche in questo pubblico non abbiamo avuto molta interazione ma io spero che un borsello bitcoin qualche ragazzo di bottega che gioca con l'intelligenza artificiale che cose di questo tipo tra internet oggetti e delle altre cose che sono accessibili a costo praticamente zero se non addirittura finanziati perché anche i programmi capiscono che l'apprendimento è quello che serve c'è un problema di accesso da parte delle piccole e medie imprese a questo tipo di risorse come l'intelligenza artificiale come in generale tutti questi servizi digitali è qualcosa che richiede delle grandi dimensioni per essere gestito? A Bari ho messo su una scuola un'alta scuola residenziale per innovatori digitali proprio per far sì che i ragazzi fin dal primo anno di università possano dare una mano alle aziende e soprattutto le piccole e medie aziende cioè quelle che non hanno i centri di ricerca che non hanno la possibilità di investire danno delle borse di studio a questi ragazzi e i ragazzi gli risolvono problemi innovativi e trovano strade per far quagliare quelle idee che sono un po' vaghe mi piacerebbe fare questo mi piacerebbe ma non so come magari trovando anche i finanziamenti poi dopo per ingegnerizzare il problema quindi io vedo fortissimo il rapporto scuola università e impresa in questo campo le imprese da sole non ce la possono fare i ragazzi hanno la capacità di innovazione dobbiamo sfruttarla fino in fondo non dobbiamo pensare che loro ne sanno di più di noi grandi perché poi scopriamo che neanche loro sanno come funziona Google a meno che non gliel'hanno insegnato qualcuno quindi si stanno smanettare però non inventiva e soprattutto non credono che le cose siano impossibili mi ricordo la storia di un matematico che non sapeva che un teorema era stato giudicato indimostrabile e quindi lo dimostrò la famosa affermazione di Einstein nel senso che tutti dicono che è impossibile finché arriva ora non lo sa allora i ragazzi sono questo hanno la possibilità di pensare in grande se noi però grandi gli diamo gli strumenti la capacità la prospettiva il futuro l'autostima nei ragazzi non è molto forte in questo momento dobbiamo essere insomma è la consapevolezza e la formazione e se lancierei una sfida a questa bellissima platea che rappresenta una speranza incredibile non so se sono qua perché il buffet poi è bellissimo o prima erano obbligati per l'assemblea ma se invece sono qua per ascoltare le cose che noi diciamo vuol dire che la curiosità la passione l'investimento che vogliono fare nel proprio futuro c'è ed è concreto la sfida che voglio lanciare loro è di rendersi conto che se hanno 50 anni o 60 anni oggi hanno 30 anni 40 anni davanti di età produttivissima ed è la stessa prospettiva che ha oggi un ventenne non è questione di contrapposizione tra generazioni ma di mentalità aperta di desiderio di conoscenze di sperimentazione e quindi di mettersi tranquillamente in gioco ma forse la cosa che veramente cambia con l'età è proprio la disponibilità a mettersi in gioco questo è vero io temo sia proprio questo il problema comunque allora io vorrei concludere con lei Fagini intanto rinnovando anche lei questa domanda chiedo di fare un cappello una conclusione intanto anche qua vorrei capire dal suo punto di vista il regolatore rispetto a tutti questi cammini che cosa può fare per ridurre i rischi e come dire aumentare le opportunità e poi se mi fa però prima un brevissimo focus dal suo punto di vista per la piccola media impresa quali sono rispetto a tutti questi scenari i principali rischi e le principali opportunità e quindi cosa deve fare il regolatore le chiedo per ridurre i primi e ottimizzare aumentare le seconde il mio messaggio è di abbracciare l'intelligenza artificiale e la robotica ma farlo con la capacità di usare macchine e creare macchine che siano compatibili e complementari all'uomo non per sostituire l'uomo l'idea di sostituire l'uomo con una macchina non è possibile oggi e penso che non sarà mai possibile quindi una grande perdita di tempo pensare di far fare che più avanti verrà una macchina che farà le cose che faccio io va bene perché questo non è possibile i pezzi spesso sono ma ormai tutto per esempio nella Silicon Valley oggi c'è questo senso che le macchine ci supereranno in tutto cioè non in alcune cose non nelle cose meccaniche che noi facciamo e facciamo ovviamente pessimamente se parliamo di moltiplicazioni io ne faccio una in tre minuti il computer che ho in tasca ne fa 10 miliardi al secondo quindi cosa vuol dire questo? vuol dire che io sono deficiente perché la macchina è più di 10 miliardi più brava di me non vuol dire nulla quindi usiamo l'intelligenza artificiale con intelligenza umana non con l'intelligenza artificiale quello lì è il problema se pensiamo per un attimo che il futuro sia fatto solo di intelligenza artificiale e noi conviviamo con una macchina che però detto tra parentesi è più potente di noi questo è un grande disservizio all'umanità noi non siamo macchine noi non siamo macchine e stiamo ridotti a essere macchine imperfette da questa visione della Silicon Valley oggi che ci come dire ci 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 fa vedere un futuro va bene che non è assolutamente raggiungibile secondo me secondo lei non è proprio plausibile voleva aggiungere qualcosa poi le chiedo cosa deve fare il regolatore una battuta prima abbiamo parlato di formazione tecnica però c'è anche bisogno di formazione filosofica cioè questi problemi qui non sono problemi tecnici questi problemi richiedono un pensiero che sia radicato anche nella classicità per esempio la scuola di cui sono vice direttore ha questo scopo prendere scienziati soprattutto cioè ingegneri matematici fisici e aggiungere quello che manca a loro informazione filosofica e perfino teologica che ha una sua componente e vengono fuori persone in grado di pensare meglio al futuro con quelle caratteristiche che uniscono quello che dice Faggin con quello che dice Orban perché i due elementi si possono fondere prendendo il meglio di ognuno se oggi solo le aziende più grandi hanno un comitato etico così come oggi voi avete l'obbligo per legge di avere un responsabile della protezione dei dati o del responsabile della sicurezza domani avrete o imposto o auto adottato un diffuso e anche un vantaggio è la battuta conclusiva regolatore deve soprattutto istruirsi il problema fondamentale è che il regolatore non sa assolutamente nulla di quello che deve regolare io direi che ci possiamo allora fermare qua io vi ringrazio vi tengo però qua perché so che